edizione di oggi cari amici in studio con voi rosario moreno iniziamo subito con i dati del coronavirus di ieri con 16.079 nuovi contagi e 136 morti in 24 ore aumentano ancora i ricoveri c'è un più 637 altre 66 persone in rianimazione 6 regioni oltre i mille casi quotidiani altri 3.935 positivi in lombardia piemontene 1550 campania 1541 veneto 1325 lazio 1251 aumentano i casi pure in toscana dove sono stati registrati 1145 casi in più sono 9694 i pazienti che sono ricoverati con sintomi mentre 992 quelli in terapia intensiva rispetto a una settimana fa l'incremento dei casi tra lunedì e giovedì è del 94 per cento sempre sul coronavirus sei mesi dopo la fine del lockdown in lombardia comincia il coprifuoco notturno la ts milano comunica che in una settimana i casi triplicati la regione più colpita dalla pandemia la prima reintrodurre chiusure e totali seppur solo dalle 23 alle 5 per motivi che potrebbero essere solo l'inizio questi una nuova zona rossa milano insomma non la esclude ha detto il direttore generale dell'assessorato al welfare della lombardia marco trivelli in lombardia infatti la curva del contagio continua a crescere con numeri quadrupli rispetto alle altre regioni vertice tra il sindaco sala e la ts dicono numeri sono tali che confermano la situazione di grande allarme per la rapida crescita del contagio coronavirus in francia 40 mila 41 mila nuovi casi il doppio di ieri dell'altro ieri scusatemi coprifuoco per due terzi della popolazione la germania va oltre 10.000 la spagna 20.000 la ministra degli esteri belga in terapia intensiva registrati 11.287 nuovi infetti in germania che inserisce 11 regioni italiane nelle zone a rischio francia e spagna superano il milione di contagi dall'inizio della pandemia in belgio intanto l'ex premier ed attuale ministra degli esteri belga sophie wilmes positiva al coronavirus è stata ricoverata in terapia intensiva coprifuoco ad atene e salonico al solina scrive a fontana e de luca per tenere le scuole aperte il governatore lombardo dice non ci sono risorse per potenziare i trasporti la ministra dell'istruzione chiede al pirellone di rivedere l'obbligo del del dead per licei e tecnici che scatterà appunto dal lunedì mentre de luca è invitato a riaprire elementari e medie la soluzione per limitare i contagi è quella di rimodulare gli ingressi negli istituti il nodo su cui il premier chiama in causa direttamente il miur contrario all'ordinanza anche il sindaco sala la replica del presidente è stata che è proposto i turni pomeridiani ma ci sono i vincoli dell'orario di lavoro dei docenti il presidente toscano gianni ha detto governo revochi l'autonomia scolastica e conte dice la ministra vigilerà sui ingressi scaglionati con il covid al rischio un milione di posti nelle piccole e medie imprese i cali maggiori in ristorazione hotel e servizi per il tempo libero la stima si basa sulle opinioni di un campione di 5.000 consulenti che lavorano per le aziende con meno di 250 addetti nel commercio il 30,3 per cento del campione stima una contrazione e degli occupati tra il 10 e 15 per cento il 23,3 per cento teme che sarà superiore al 15 per cento tiene invece l'occupazione nel manufatturiero intanto dall'inps arriva una nuova conferma che finora sono stati colpiti solo i contratti meno garantiti 568 mila 800 i posti a termine in meno un saldo negativo anche per stagionali somministrati e intermittenti notizie da napoli e dalla campania bollettino coronavirus in campania del di ieri 22 ottobre 1541 nuovi casi di positività al coronavirus a fronte di 12.000 e un tampone analizzati sono questi i numeri del bollettino di giovedì 22 ottobre diffuso dall'unità di crisi della regione campania 88 dei nuovi positivi sono sintomatici 1453 non presentano sintomi stop alle attività dalle 23 alle 5 del mattino coprifuoco in campania in campania appunto è l'ordinanza numero 83 arriva questa ordinanza della regione campania che regola il coprifuoco imposto dalle 23 alle 5 del mattino per mantenere per contenere scusatevi assembramenti pericolosi per i contagi covid 19 trasporti la nm vara il piano di potenziamento del trasporto sette nuove linee la nm ha varato il piano dei servizi integrativi per il trasporto pubblico locale richiesto e finanziato dal ministero dei trasporti e dalla regione campania per incrementare l'offerta di trasporto pubblico l'azienda ha avviato una gara per l'individuazione di un soggetto cui sub affidare l'esecuzione di servizi aggiuntivi nei tempi più rapidi possibili covid da de magistris una proposta per salvare il natale da lockdown a oggi chi doveva tutelare meglio la salute e organizzare le barriere sanitarie chi doveva fermare i focolai prima che diventassero incendi ha fatto poco o nulla adesso ci tocca andare verso un nuovo lockdown e questa destra amarezza perché qualcuno deve stare deve dare conto e rispondere di tutto ciò che non è stato fatto in questi mesi è netto luigi de magistris sindaco di napoli intervenuto a sky tg24 le istituzioni per lui non hanno fatto il loro dovere notizie dal friuli venezia giulia coronavirus 220 nuovi contagi e un decesso appunto in friuli venezia giulia nuovo dato record per la nostra regione sale a 368 il numero dei morti legati al covid 19 14 anni medicina d'urgenza a udine ieri sono stati rilevati 220 nuovi contagi a fronte di 5510 tamponi eseguiti e un decesso da covid 19 in friuli venezia giulia si tratta di una donna nata nel 1942 residente a trieste e deceduta alla rsa di alla rsa san giusto e precedentemente ospite della casa di riposo residenza le magnolie lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute riccardo riccarti gorizia un positivo nella scuola di infanzia di corte santilario al via sanificazione test disposti dal dipartimento di prevenzione il comune studia nuove misure di sostegno per le famiglie in difficoltà tutti speravamo che la seconda ondata non arrivasse e nessuno era certo che accadesse mi è arrivata e i contagi stanno crescendo esponenzialmente commenta così il sindaco di gorizia rodolfo ziberna e dice teniamo però sempre presente che si stanno facendo molti tamponi in più e che i pazienti ricoverati sono meno rispetto alla fase iniziale teniamo anche presente che di covid 19 si guarisce anche se questo dato viene spesso dimenticato a gorizia i positivi sono 43 a ieri mentre altre 46 persone sono in quarantena dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 109 ai quali si aggiungeranno ci auguriamo detto ziberna tutti i positivi attuali tarvisio sette nuovi casi di covid 19 due in due in forma così il sindaco zanette sono dipendenti comunali salgono a 18 i positivi sette nuovi casi di covid 19 a ieri a tarvisio a dare notizia il sindaco renzo zanette e dice il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria mi ha segnalato i risultati dei tamponi eseguiti due persone risultate positive sono dipendenti comunali una terza è parente di una delle persone risultate già positive altri quattro casi sono tutti collegati familiari amici a un contagio emerso in un altro comune sono stati tutti presi in carico dal servizio sanitario e sono già in isolamento presso il domicilio bene cari amici con questo è tutto termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione